Oggi il Corriere della Sera ha titolato in prima pagina Far West in Puglia uccisi strada nella faida di mafia e poi c'è un commento di Antonio Polito, una guerra dimenticata. Ovviamente è fin troppo facile fare un accostamento di questo tipo e cioè che nel Foggiano la guerra dimenticata non vede l'esercito in campo mentre stranamente l'esercito in campo lo vedranno sempre di più gli abitanti del Salento nelle zone dove passerà il gasdotto transadriatico, la famosa TAP. Siccome c'è una contestazione in corso, una contestazione forte ma evidentemente deve essere molto più forte della mafia che c'è nel Foggiano allora lo Stato manderà l'esercito. A questo punto vi domando, quell'esercito che abbiamo già mandato in Val di Susa per proteggere i cantieri della TAV, tra l'altro treno alta velocità o meglio alta capacità i francesi lo stanno di fatto bloccando perché i soldi, ha detto Macron, non li darà più. Ok, quindi anche lì abbiamo l'esercito per realizzare treno alta velocità e ora avremo anche l'esercito nel Salento per bloccare le contestazioni dei no TAP. però l'esercito non lo mandiamo dove c'è la mafia. Strano eh? Strano, altro che una guerra dimenticata. Bah!